Io sono malato, signor Cocuzza. La mia è una forma di malattia, di cui lo Stato deve tenere conto. Io sono un tossicomane ideologico, sono in crisi di astinenza. Posso fare di tutto, signor Cocuzza, e lo farò. Che vuole dire? Che mi lascerò finalmente andare, che non avrò più scrupoli, che diventerò un delinquente. E faccia quello che le pare. E sarà anche colpa sua. Mia? E io che c'è? Lei non mi prende nella giusta considerazione. No, io faccio solo quello che nelle mie possibilità. Ma la smetta con la storia delle possibilità. Faccio quello che nelle sue responsabilità. Lei per me sta benissimo. Se ha bisogno, vado a lavorare. E come faccio a lavorare, signor Cocuzzi? Sono mesi che non esco di casa. Non ce la faccio ad andare per strada, guardare negli occhi le persone che per vivere devono schiacciare la propria dignità. Tutti dobbiamo fare contro la realtà. Ma questa è la vostra realtà, non la mia. Allora combatto con la sua realtà. Ma che vuole dire? E come faccio? Dove va? Allora combatto con la sua realtà. La sua realtà è la vostra realtà. Grazie a tutti. 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 This is... Grazie a tutti. 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 a tutti.